Il lunedì inizia così con la seconda pagione di 7.2.5 Oggi oggi su Netflix quindi ottimo inizio di settimana Ok oggi è martedì Sto editando i video degli acquisti del Games Week Anzi sto venendo di editare Adesso lo metto per esportare E verrà caricato probabilmente domani Mentre sto guardando Spider-Man The Ultimate Spider-Man Web Warriors Ora dopo questo avrò da editare l'unboxing Della Mystery Box Edition di Black Ops 4 Che probabilmente ci sarà finita settimana Poi devo uscire Vado a cambiare Vado a comprare della roba che mi serve per la camera E vado a comprare delle luci a led Sì che mi sono per la camera per fare un'illuminazione Non questa camera qua dove sono ma un'altra E poi ho un corso di fotografia che andrà dalle 8 alle 11 Quindi ho il mio bel da fare E forse domani dovrò editare dei video per quella discoteca lì Tra l'altro abbiamo avuto un po' di case Di quella discoteca magari serie Se mi ricordo e se non voglio ve ne parlo poi bene Perché comunque ne sono successe un po' di cose ieri Oggi è mercoledì Sono qui a portare a fare un giro il cane Ciao Diana Vabbè non gli piace farsi inquadrare Mi ha appena tipo strappato un braccio Perché adesso lo tenendo Ha visto un gatto e lo stavo seguendo malamente Oggi dovrei uscire in teoria Forse O starò a casa Dipende dal mio amico cosa vuole fare Adesso c'è il cane che va tutto zigzag Adesso sono a mangiare da mia nonna poi Ho sonno Oggi alle 3 Esce l'unboxing della mystery box edition di COD E i cani stanno usando ogni cosa Quindi io torno in casa Ci vediamo più tardi Se il cane permette Oggi è giovedì Adesso sono le 3 Non so bene cosa farò subito Perché adesso vi voglio organizzare Voglio andare a trovare fino mia nonna Poi voglio andare a farmi un giro col drone Se il tempo regge Adesso voglio vedere un po' come giro il tempo Capire se non pioverà Così mi faccio un volo col drone Visto che le previsioni non sono affidabilissime Così mi appoggio il braccio Perfetto Volevo parlarvi anche di questa cosa Che vi avevo accennato Ieri se non sbaglio O l'altro ieri Sul fatto di quello che è successo Con la discoteca Non farò nomi Perché logicamente Voglio rimanere sulla Cioè logicamente voglio rispettare la privacy Però comunque è successo che Io non so per chi Chi non lo sa Per chi non lo sa Io faccio il fotografo Barra videomaker Principiante Barra semi professionista Ma molto semi E comunque Ho avuto questo Ingaggio se vogliamo dire Comunque questo lavoretto Per una discoteca Volevano le foto Io lavoro con un altro ragazzo Con un che sarebbe un mio amico Che comunque Colleghi Amici Comunque Chiameteli come volete E' praticamente successo Che io Non c'ero Il giorno in cui Bisognava andare A fare Una delle serate Di questa discoteca qua E' andato solo lui Visto che loro volevano Sia video Che foto Volevano il video Del concerto Volevano le foto Lui Per fortuna È riuscito a fare tutto Sia a fare i video Che a fargli le foto Mi ha mandato le foto A me Perché mi ha detto Sono stanco Visto che Bisogna consegnarle Subito Il giorno dopo E lui Ha finito Dopo alle 6 del mattino Una cosa del genere E a per le due Le volevano E allora Mi fa Sono stanco Visto che io Sono andato Tu edita le foto Io gli ho detto Giustamente Hai ragione Non ti preoccupare Lo faccio Io mi ha mandato Una cosa come 600 foto Di queste 600 E qualcosa foto 290 Sono quelli Che ho scelto Per le da mandare Le migliori Ecco Le ho sistemate Le ho editate un po' Le ho sistemate Le ho fatto un po' Di color correction Luminosità Esposizione Tutto Faccio così Mi firmo Con il nostro logo Mi metto anche Il logo della discoteca Mando Il giorno dopo Viene il mio amico Mi deve portare Dell'attrezzatura Che mi serviva a me Per un corso Di fotografia Che sto facendo E Praticamente Mentre Si sono messi Un po' Lì a checchierare Si sono messi Ci Manda il messaggio Manda lui Il messaggio Quello della discoteca Che fa Guarda Senti Io Non Non vi chiedo I danni Perché Non voglio Uccidere il coltello Nella piega Visto che non vi pago Però Non voglio più Che lavoriamo Non voglio più Che lavorate per noi Perché le foto Non ci sono piaciute Non abbiamo avuto Nessuna foto Da mandare E Quindi Abbiamo avuto Un evento Senza foto E Così non va bene Ma proprio Con un tono Cioè C'era un messaggio vocale Con un tono Da Fuori a grazie di Dio E roba del genere Allora Io e lui Ci siamo messi Il 10 di sera A riguardare Tutte le foto Che abbiamo rivalutato E che abbiamo confermato Mi abbiamo mandate E stavolta Così a caso Visto che ci siamo anche noi Incavolati con lui Vi avevano detto Scusi Ci avete fatto fare Tutto con urgenza Ci avete chiesto Foto e video Avete fatto venire Una persona Cioè C'era solo una persona Perché 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 Comunque Gli abbiamo rimandato Le foto Le ricordate Ah no no Scusate Vanno bene Cioè allora Prima di iniziare Subito in tono aggressivo Parlane Sono scure Sono sfocate Che poi Le abbiamo ricordate E effettivamente Qualcuna Non era stata Renderizzata bene Ma quello Può succedere Allora Le abbiamo rimandate Le abbiamo ricontrollate Tutte Dopo averla Renderizzata Della Lightroom E stavolta Erano perfette E allora Le abbiamo andate Stavolta Non ho avuto Niente da dire E ci paga anche Visto che comunque Ci siamo arrabbiati Infatti abbiamo deciso Che Se Se Per il prossimo Stagione Per la prossima Stagione Quindi per il prossimo Anno In questo periodo qua Saremmo riusciti A trovare Qualche altro Cliente E loro Ci ricontatteranno Cosa che credo Non faranno Perché comunque Abbiamo già avuto A che A che Discutere Con loro Se Troviamo Qualche altro Cliente Ma loro Ci chiamano Rifiuteremo Con loro Non per il fatto Che buttiamo Via del lavoro Ma che Veramente Avere a che fare Con persone del genere Sinceramente Non ci va molto Adesso Non faccio vedere Le foto Perché ci sono Le foto Le persone Le foto Del locale Rispetto La privacy Non vi faccio Vedere niente La stessa cosa Vale per dire Il nome del post O il nome Di con chi Abbiamo parlato O il nome Del mio collega Perché non so Se è d'accordo A farsi nominare Adesso Chiudo questo paragrafo Perché comunque Volevo sfugarmi Un pochettino Volevo parlarne Adesso Mi preparo Esco Prendo il drone Vedo se va bene In mente Vado a trovare Mia nonna Vedo anche Se riesco a beccare Qualche mio amico Un pochettino 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 su doceti credo tutti conoscete doceti perchè è un progetto di quelli sul server e loro comunque sono abbastanza conosciuti anzi molto conosciuti e appena ho visto i loro video ho visto che io comunque li seguo abbastanza tanto li seguo comunque appena ho visto i loro video in cui parlavano di doceti mi sono subito andato a scrivere poi non c'erano subito non c'erano seminari che mi interessavano poi ho iniziato a esserci quelli di final cut quelli con la slim dogs allora sono andato a iscrivermi ieri per quello del 25 di ottobre che è quello di post produzione avanzata con final cut faccio per cioè prendo i crediti pago i crediti faccio per ordinare sono sulla pagina di final cut post produzione avanzata faccio per comprare mi fa a cui si è andato a buon fine però mi ha spostato sulla pagina di premier però del corso di base allora lì mi ha triggerato un po' poi vado a vedere i corsi a cui sono iscritti mi fa premier produzione prima di più le basi ho detto what the fuck cioè oh scusate ho detto che cacchio io mi ero iscritto a final cut l'ho pagato per final cut e se tipo tornavo su ho comprato altri crediti faccio di nuovo per andare su final cut faccio questo è già acquistato questo pacchetto e mi ha spostato il nostro premier ma ho fatto sta che era tardi a 1.6 e mezza comunque e la loro assistenza era già chiusa comunque gli lascio un messaggio assistenza stamattina mi sveglio e cosa trovo subito subito il messaggio che mi hanno spostato di corso e che mi cioè che mi hanno spostato di seminario da quello di premier a quello di final cut e mi e ci hanno detto ci scusiamo per il disguido e la ringrazio per averci contattato cacchio raga un'assistenza proprio super veramente consigliatissimo porta per i seminari strautili con delle persone affidabilissime poi comunque il sito ottima assistenza ottimo strutturato bene sono scurissimo no e devo dire è un capolavoro infatti approvatissimo adesso sto andando a mangiare da mia nonna ho il cane quindi vado oggi è sabadì adesso sto per iniziare a giocarmi di nuovo spider man perché è uscito ieri sera più o meno sì più o meno ieri sera l'update con le nuove modalità le nuove difficoltà e prepara per il primo dlc che sarebbe la rapina nella sezione la città non dorme mai quindi me lo ricomincio da capo voglio finire tutti i trofei perché l'avevo platinato prima dell'update adesso con l'update hanno aggiunto altri tipo cinque trofei qualcosa del genere e quindi sì visto che comunque COD lo sto giocando un pochettino ma essendo che non c'è la storia essendo che io non sono tantissimo multiplayer soprattutto perché non ho nessuno con cui giocare a COD online sì ci ho giocato ma lo lascio anche da parte per spider man per il momento non ho altri giochi single player o comunque che mi interessano da giocarmi perché tra un po' uscirà Dead Redemption in teoria quindi adesso vado a giocare mettermi guardo qualcosa su youtube